Anticipazioni e spoiler Terra Amara, puntate che vanno dal 30 novembre al 3 dicembre. Demir verrà arrestato per l'omicidio di Saith. Come abbiamo visto nella puntata di ieri, il povero Saith viene ucciso. Fatta questa scoperta, Fekeli si reca immediatamente da Demir, sapendo che quest'ultimo ha delle responsabilità. Demir poco dopo viene interrogato e sospettato di concorso in omicidio. Unkar, sua madre però, cercherà di tutto per provarlo a farlo scagionare. Unkar però pur di vedere scagionato l'adorato figlio farà di tutto. Infatti avrà un piano, proverà a convincere Ghaffur e il marito di Sanye ad addossarsi le colpe dell'omicidio di Demir. In cambio di due anni di carcere riceverebbe successivamente un dono di grandissimo valore. Però ragazzi c'è un piccolo scoop, nel senso che Demir proverà in tutti i modi la sua innocenza. Sarà innocente oppure no? Lo scopriremo sicuramente nei prossimi video, quindi voi continuate a seguirmi. Vi ricordo ancora che le nuove puntate di Terra Mara vanno in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 14.10 circa. Ed è visibile anche il sabato alle 14.30. Se avete perso qualche episodio potete vederlo tranquillamente in streaming e in on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Io vi aspetto per tanti altri prossimi video. Ciao e alla prossima!